ciao ragazzi 365 giorni con vale ecco un altro bellissimo orecchino vedete fucsia vedete che fa blu nero bianco bellissimo bellissima pietra questo non mi ricordo dove ho preso questo qua però è molto bello questo vale per il me lo metto domani e con questo è tutto ciao alla prossima